E' arrivato il giorno che tutti aspettavamo, è finalmente terminato l'album Giochi di Monopoli e inizia una nuova era, un nuovo album Marvel Go, quindi qui ragazzi incomincia un'era che durerà adesso vediamo quanto, vedremo tutti i set ma il nuovo album Marvel Go sembra essere veramente interessante. Una collaborazione che non si vedeva da tanto tempo e come potete vedere già subito da questo screen durerà 67 giorni e 7 ore, quindi indicativamente si va verso la fine dell'anno. Un bel mi piace, iscrizione al canale, attivazione della campanella se vi piacciono questi video e aggiornamento anche su questi argomenti di Monopoli Go, sapete che io porto i tutorial per i dadi gratis, il tutorial per ipermille infinito, ma uno dei più importanti video che io faccio sempre uscire su questo canale è il video news di Monopoli Go. Ricordo che mi trovate a 360 gradi anche qua sotto su Instagram, Twitch e TikTok, qua in alto potete trovare la playlist ufficiale di Monopoli Go Ita con praticamente quasi due anni in realtà di tutorial proprio su questo gioco. Subito due adesivi sbloccati di Marvel Go, le chicche quotidiane anche queste a tema Spider-Man e direi subito di andare ad analizzare oltre a tutto questo quali sono gli eventi attivi di questo weekend. Sembra esserci proprio l'evento di Peggy, sembra esserci allo stesso tempo l'evento afferra la grana, insomma un po' di contenuti, un po' di robe. Vedo anche che c'è questo fantastico tutorial che io chiaramente non posso non andare a visualizzare, vedo che si stanno spaventando un po' tutti i vari personaggini, esplode tutto, si trasformano e cosa succede? Esce da questo vortice, io ragazzi non l'avevo visto. Ui! Spider-Man Hulk, Marvel Go, tiriamo! Mamma mia ragazzi che cavolo di lancio hanno fatto per questo album. Prima volta che mi capita in assoluto da quando gioca Monopoli Go che hanno addirittura creato un trailer di lancio per un nuovo album di adesivi. Veramente, veramente, tanta tanta roba. GG Scopli che sta investendo un po' di soldi, sa che è il momento di tirar fuori le armi pesanti perché gli altri giochi non stanno andando tanto bene. E Monopoli Go può sgomitare e farsi qualche posizione sopra rispetto agli altri. Come vedete hanno già investito anche in alcuni tornei, so che ne devono arrivare altri, una tema Hulk, una tema Vedova Nera. In questo caso siamo in corsa di Iron Man. Voglio farvi poi anche dei vari tutorial su come vincere i tornei perché ci sono delle nuove tecniche che sono uscite proprio in concomitanza con questo fantastico evento. Abbiamo un per cento da andare ad attivare. Io ragazzi direi che mi tranquillizzo, non è senso andare a sprecare un per cento. Stiamo comunque in un'ottima situazione di profilo. 9200 quasi di patrimonio netto. Road naturalmente, come sapete, verso i 10k. Si riusciranno ad attenere, con calma li riusciremo a sbloccare. Allora, utilizziamo subito questi vari bonus amici, così almeno metto un po' di moltiplicatori sul fuoco. Inizio a portarmi un bel po' su il monte premi, il plafond che avevo di sblocco perché sinceramente era un pochino basso. A me tenerlo basso non è che mi piaccia neanche più di tanto. Quindi me lo porto un po' su e iniziamo a far capire che il toro c'è e che il vapor c'è. Toro perché ragazzi stiamo per... Sto registrando questo video prima della partita Torino-Lazzo. Speriamo... Commentate qua sotto con quanto è finita. Speriamo di avere un buon risultato. Sblocchiamo subito questa grande rapina che ci porta a casa un bel trittico di bangonote. E direi che ci siamo... Possiamo finalmente entrare dentro la stagione Marvel. Uno perché ho sbloccato il torneo corsa di Iron Man. E soprattutto perché voglio andare a vedere come è strutturato Marvel Go. Questo nuovo album di adesivi che come potete vedere ha subito un numero minore rispetto a quello precedente. Quello precedente ne aveva 207 totali. Questo qua 162. Anche il numero di set so essere diminuito. Da 23 siamo passati a 18. Ma andiamo ad analizzare tutto ma tutto tutto. Schiacciamo la I e vediamo subito che cosa ci dice la I. Il testo delle informazioni aggiuntive ci sottolinea che si possono collezionare adesivi in tornei, eventi in diretta e molto altro. Chiaramente l'obiettivo numero uno è completare i set per ottenere delle fantastiche ricompense. Ci sono chiaramente ogni set delle ricompense ma al termine e il completamento dell'album c'è questo fantastico premio qua. La naturalmente pedina e scudo di Capitan Marvel. Abbiamo poi la pedina di Deadpool quindi devastante la voglio sbloccare quindi cercheremo di chiaramente farci un po' strada all'interno di questo nuovo album di adesivi. Chiaramente siete voi anche che con il link in descrizione possiamo diventare amici e scambiarci degli adesivi. Poi oltre a questo ci sono anche 15k dadi. Andiamo ad analizzare i 18 set uno per uno. Il primo set è New York con Spidey, l'hanno chiamato Spidey al posto di Spider-Man. Successivamente abbiamo il Costruttori Muscolosi quindi come potete vedere si inizia già ad intravedere le prime carte a due stelle. Man mano che si va avanti diventano sempre più difficili i vari set e abbiamo Cosmo e Scotty. Andiamo ancora avanti di uno perché abbiamo Amici di Palestra, anche in questo caso 4 set non troppo difficili. Aumenta un po' la difficoltà con Tessitrice di Tele, niente di così impossibile, doppio Deadpool. Quindi fino al set numero 7 sembra essere tutto tranquillo. Infatti abbiamo Golfista Verde dove abbiamo a proposito già sbloccato una delle due carte che ho sbloccato di questo album. Successivamente iniziano a vedersi le prime carte 4 stelle, Addestramento Shield. Quindi fino in realtà al set numero 10 io posso sbloccare. Quindi abbiamo chiaramente che mi ha fatto vedere Addestramento Shield nel set numero 8, Green Goblin nel set numero 9 e nel set numero 10 Avengers di Monopoly. Dieci set che si possono sbloccare senza carte dorate. Col set numero 11, come abbiamo appunto accennato, esce la prima carta dorata che è Fuga Impunita, che si chiama Il Furto. Questo set, nel set numero 12 viene introdotta un'altra carta dorata, Allarme Furto, prima del furto. Successivamente iniziano ad essercene due, quindi la difficoltà aumenta e non di poco con Detective Jones. Set numero 14, altre due carte e col set numero 15 entriamo nell'era delle carte a 5 stelle con Salvatori di Pianeti. Come vedete le ricompense di completamento di ciascun set sono molto 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 gloriose. Come potete vedere mille dadi, 2,83 miliardi di banconote e chiaramente anche un emoji carina, un emoji carina dell'omino che ti fa così. Successivamente il set numero 16 aumenta la difficoltà per raggiungere il culmine col set numero 18, dove le carte a 5 stelle sono 3 e ce n'è una addirittura a 4 stelle. Quindi 4 carte dorate. Vi ricordo che è valida anche in questo caso la presenza dell'evento trucco per scambiare carte oro, più o meno la serie di video la conoscete, Magia d'Oro. Usciranno naturalmente delle possibilità per sblocchiare queste carte d'oro, sarete voi a darmi una grossa mano nel completamento, spero, di questo album Marvel Go che non sembra essere per niente difficile. Quindi il mio consiglio spassionato è giocate per fortuna, almeno questa volta vi devo dire, con giocate a Monopoly Go. Perché a differenza del set precedente, dove 207 erano gli adesivi ed era richiesta una maggior presenza nel gioco, questa volta la durata totale, che è di 70 giorni, per all'infine soltanto 160 adesivi, secondo me giustifica il tempo speso. Quindi mi raccomando, se avete l'opportunità giocateci, perché oltre al semplice fatto che se vi piacciono i Marvel, la skin di Deadpool dovete avercela, due, le ricompense sono molto interessanti, perché si parla sempre di 15k dadi. Ok? Quindi 15k dadi sono veramente, veramente tanti. Abbiamo poi 18 gettoncini rossi da andare ad utilizzare di Peggy, io li utilizzo giusto per scrupola, perché intanto poi so già che non li andrò ad utilizzare più di tanto in futuro. Quindi me li porto giusto per portarmeli. Ok, subito una bella botta di fortuna, una bella legnata di quelle che piacciono a me. E quindi, GG, sono contento almeno che ogni tanto la fortuna sia dalla mia parte. Continuiamo l'utilizzo di tre gettoncini rossi per volta, perché voglio sbloccarmi anche altre ricompense. Ebbene, così, altre tre. Iniziamo a macinare. Ui, addirittura quasi 20 dadi. Pum, 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 mamma mia ragazzi. Incredibile ma vero, incredibile ma vero. E schiacciamo altri tre gettoncini rossi, vai. Si inizia ad utilizzare il moltiplicatore, guardate un po' come saldiamo. Chiaramente le ricompense sono molto più facili da sbloccare, perché hanno deciso di spuntare un po' di più su questo evento di Peggy. Non so se lo conoscete. È sempre stato un evento un po', diciamo, lasciato in disparte dai player di Monopoly Go. Da quando hanno fatto, diciamo, un nuovo aggiornamento, del quale ho portato anche dei video qua sul canale, devo dire che la gente ha riniziato stranamente a giocarlo. Gigi scopli perché stanno riprendendo in mano un gioco che sembrava morto e dalle ceneri pian piano stanno iniziando a cucinare qualcosa. Io sono contento perché chiaramente non ho mai smesso di portare questi video. Spero che questo vi sia piaciuto. È iniziata l'era di Marvel Go. Fatemi sapere se siete in hype. Mi raccomando, un bel mi piace. Iscrizione al canale. Cliccate uno di questi due video che sono uno più bello dell'altro. Grazie.